Il turismo che passa sopra le nostre teste e salta l'Abruzzo, preferendo altre regioni. Si tratta dell'avioturismo che conta un traffico di almeno 50.000 passaggi l'anno. Con questo obiettivo l'assessore regionale Donato Di Matteo mette in campo una missione che punta a far conoscere Pescara e il suo aeroporto spingendosi fino a Caponord con l'aiuto dell'Aeroclub di Pescara. Sicuramente questa iniziativa serve a far crescere questa associazione che contribuirà con la sua crescita alla crescita della visibilità del nostro Abruzzo perché quando questi ragazzi arriveranno a Caponord diranno da dove vieni da Pescara e quindi dall'Abruzzo. Questa è una grande iniziativa di promozione turistica del nostro territorio. Dieci giorni per andare e tornare e soprattutto farsi ricordare. L'avioturismo racchiude in sé un numero di potenziali attori che mai prima hanno considerato Pescara e l'Abruzzo come una tappa. Un mercato che esiste e che si muove. Obiettivo dunque promuovere un'infrastruttura che in sé contiene tutte le caratteristiche necessarie. L'avioturismo ci permette in poco tempo di raggiungere mete che normalmente con vettori normali sarebbero abbastanza scomode. Considerate che in un'ora di volo si raggiunge una fascia di circa 200-300 km. Quindi innanzitutto con l'aereo, l'aereo da turismo riusciamo a essere più rapidi e raggiungere per esempio la parte della Dalmazza, della Croazia, della Grecia. Poi riusciamo sicuramente a portare più velocemente possibile quelle che sono le opportunità dell'Abruzzo e far arrivare in Abruzzo. Considerate che noi abbiamo un aeroporto molto importante e molto ben strutturato che purtroppo è ancora sotto tono. Quindi riuscire a intercettare anche quello che è il mercato, il target degli avioturisti, persone che hanno aerei da 3-4 posti, che potrebbero atterrare e visitare Pescara, visitare le nostre bellezze naturali dal mare alla montagna, è abbastanza importante e facile svilupparlo.